no bello a tutti ragazzi bento al mio canale sono lodo 97 station sono qui se giù in questo video siamo su io quindi sempre alla carriera perchè quest'oggi antimo giocare nella coppia di controlla atalanta e si abbiamo dei contratti da rinnovare se non mi dovrei sbagliare offerte per il trasferimento accetterei volentieri prestito stagionale ok giocatore restato e andremo contro come ho già detto in precedenza contro l'atalanta la formazione con col castan ma non l'asse maicon in porta adesatis ovviamente poi pianice de rossi e mm kevin strotman e e ho messo borriello che sta attaccando in questo caso borriello 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 la mette in mezzo pianice il difensore inizioni ancora il tiro di gerwiglio ma niente a fare stavo dicendo le formazioni io attacco borriello per commesso borriello perché torti si era infortunato e quindi ho messo borriello per testare anche lui insomma per vedere se è forte o è una pippa pianice il calcio d'angolo la mette in mezzo per mannasse non ci arriva la ingolana colla colla la limite del tiro la parata ancora del portiere calcio d'angolo per la roma al dodicesimo minuto di gioco sempre 0 a 0 un tiro abbastanza centrale va molto insedioso ancora bianici la mette in mezzo per dei rossi la colpici di testa alla parata miracolosa di portiere ancora ancora bianici per l'insimato il calcio d'angolo per gerwigno che non ci arriva in secondo momento ci arriva ma la pasta indietro ma dove c'è sta bianchi primazione della del del atlanta attenzione bianchi il tiro di bianchi fuori per un soffio per fortuna fallo di manu alas su giocatori della lanta su carmuna calcio inizio nebbiamo essere attenti perché cicalini è abbastanza abile il tiro cicalini la parata disantis meno male ningolana ningolana raggia ningolana 1 a 0 1 a 0 per la roma raggiungo l'anno stegna anche lui in questa stagione splendido bellissimo bel gol proprio bellissimo primo gol in team k addirittura i turbi al quaranta cinquesimo rientra i turbi il tiro la rete 2 a 0 ragazzi 2 a 0 al quaranta cinquesimo segna anche qua in mano i turbi contro una un'atalanta che in difesa fa un po' cacare ma in attacco non è tanto scarso qua ma non i turbi anche lui primo gol in team cup finisce così il primo tempo con risultato di 2 a 0 già detto in precedenza devo mettere che anche questa partita è stata abbastanza facile anche se comunque anche se non è finita ancora la partita però bisogna vedere insomma sostituisco pjanic con kevin strotman e che pjanic era un po' affaticato il seguito il seguito i turbi metti in mezzo attenzione ma nessuno la e borrello non cogliere l'occasione l'atalanta attenzione il tiro del giocatore l'atalanta niente da fare ancora l'atalanta metti in mezzo colpo di testa e perfetto di bambas per il portiere altre sostituzioni intradotti esce borrello ed esce dei rossi dentro seduta attenzione totti 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 francesco francesco totti 3 a 0 la firma del pupone anche in questa partita al novantissimo segna anche lui segna anche lui bellissimo gol perché comunque se fatto strada molto bene se smarcare il portiere a fa e la messa nel sacco diciamo così al novantesimo bellissima partita 3 a 0 abbiamo vinto nettamente un'altra bellissima vittoria per noi e avanziamo in team cup dai così ragazzi ho fatto la registrazione con il pvr e non so se mi ha registrato bene finora mi ha registrato bene non so se dopo mi ha registrato bene perché non si vede tanto bene va un po' a scatti però poi quando lo renderizzerò speriamo che non va a scatti e vedrò di risolvere questo problema intanto abbiamo superato l'atalanta dovremmo andare contro un'altra squadra molto forte nella team cup ma adesso c'è la partita contro il palermo allo stadio classico a palermo sono ottavi quindi non è male come squadra e però noi siamo sempre secondi con sempre quattro punti di differenza si comincia subito la prima azione della fal il palermo colpo di testa di maccarone intuffo ma niente da fare per fortuna ancora al palermo attenzione maccaroni la mette in mezzo attenzione e dei rossi provvidenziali della rocca la mette perfetta per belotti ma non riusci a prendere la porta morganella morganella passaperte della rocca della rocca della rocca al tiro la parada distinto del portero del roma cioè desatis desatis morganella su caccia d'angolo attenzione morganella la mette in mezzo per di bala la coppia di testa ma niente da fare per fortuna ancora il palermo siamo allo scadere il primo tempo ah, in attenzione finisce così il primo tempo 0-0 abbiamo cominciato molto male questo primo tempo speriamo di disegnare e vincerla questa partita facciamo una sostituzione esce florenzi d'entraturbe nella speranza di di dare un po' di velocità all'attacco di fare anche qualche golletto ancora il palermo a 52esimo lancio meraviglioso per dp da prela contro call che ha la meglio e sventa quest'azione pericolosa del palermo esce anche totti entra borriello no scusate era a destra era infortunato scusate non era totti sbagliato ecco borriello prende pala se ne va via passaggio perfetto per gervinio 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 1-0 e sessantunesimo la freccia nera segna ancora e al mocio vidi da 1-0 dai e mocio così ti volevo dai su mamma mia che gol spettacolare proprio messa alla sinistra a gira perfetta sesto gol in serie a ma ancora i tuorbe se ne va via benissimo ancora i tuorbe i tuorbe si entra passaggio per pjanic pjanic che strafman gervinio ancora gervinio 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 tira il palo borriello 2-0 marco borriello segna anche lui con questa roma con questa nuova roma metta segna anche lui un gol che lo aspettava da più di due anni penso marco borriello primo con serie a il palermo chi era non so chi era mi pare che era silva morganella la prima attenzione di bala di testa accende satis che l'avrete molto bene attenzione passaggio per borriello 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 c'è un bug assurdo ma c'è il rigore della roma rigore della roma il portiere della del palermo sorrentino che va buttato fuori al novantesimo e peccato perché comunque cioè per il palermo novantesimo vabbè ormai finire la partita vabbè rosso sacrosanto pjanic pjanic su calcio di rigore si prepara il tiro rete rete di pjanic un cucchiaio meraviglioso anche lui come totti nel precedente episodio perfetto meraviglioso eccezionale proprio come totti quinto gol in serie a per lui dai così 3 a 0 finisce così anche questa partita 3 a 0 veramente buono come risultato anche questo anche se diciamo che prima di tempo abbiamo fatto un po' cagare però ci siamo ripresi molto benissimo tempo e un buono così 4 di ridere gol eccezionale la juve vince ancora 2-1 contro l'ellas verona peccato perchè vogliamo raggiungere anche super al eccoci qua nella schermata del del menu principale ci sono offerte per il trasferimento sanabria prestito di stagione accettiamo volentieri perchè questo gioco potrebbe diventare molto molto forte quindi in prestito e sicuramente la gazzetta possiamo comprarci la gazzetta comunque i soldi non non ci mancano vediamo un po' vediamo se possiamo comprare la 25 milioni e mezzo se si potrebbe fare sarebbe un ottimo acquisto per la roma e vendere direi borriello perchè comunque non è tanto forte e comprare appunto la gazzetta che sarebbe un ottimo acquisto offerte per il trasferimento balzaretti quindi 33 anni 72 io accetterei infatti accetteremo ho venduto a un milione ha accettato la la formazione delle dell'olimpiagos quindi possiamo dell'olimpiagos dell'olimpiagos scusate e quindi anche lui ha accettato e perchè la gazzetta è ufficialmente giallorosso doveva essere un angelo rosso iniziamo subito anche quest'altra partita contro la fiorentina è una partita molto tesa giocheremo fuori casa quindi non abbiamo siamo partiti sfavoriti giochini primazione della fiorentina questa partita giochini la mette in mezzo pepe no la mette dentro per fortuna attenzione la mette in mezzo ancora rossi la prende molto bene in santi si è ancora data la fiorentina con pisaro pisaro valero borca valero pepe rossi pepe rossi la passava valero ancora rossi il gol eh mara nell'aria comunque fuori gioco per fortuna nostra la prima azione dell'olimpiagos a 45 punti con gervinio gervinio si va a prendere palla pianice del ritroviamo non riesce a tirare in tempo finisce così il primo tempo 0-0 una partita molto avvincente molto vivace ehm anche se comunque non ho messo tanti diri perchè comunque non ce ne sono stati però sarà una bella partita in secondo tempo con mattia destro che ha recuperato molto bene si fa tutto il campo attenzione mattia destro la rete di mattia destro dopo un'azione in solitaria ha fatto molto bene sono contento per lui anche mattia destro segna non solo totti e borriello ma anche lui sono molto contento per lui terza cosa in sera per lui attenzione mattia destro palento perfetto per pianici pianici il tiro di prima che gol incredibile ragazzi un gol di cioè una giocata splendida stop di vetto e tira al volo così mamma mia stupendo proprio l'angolino il portiere nito non poteva far niente e 2-0 esce destro no esce piani c'entra l'angolana poi esce ma non ha no esce 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 destro ed entra la casetta all'esordio con la roma la casetta entra anche l'angolano la casetta prende palla tutto solo la casetta la casetta la casetta la casetta il tiro la rete anche di lui all'esordio 3 a 0 l'ottantesimo la casetta spi di gonzales grandissimo gol di spi di gonzales la casetta alexandre l'angolano gervinio 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 il tiro al gol 4 a 0 gervinio anche segna in questa partita sta segnando sempre gervinio per fortuna nostra meno male sono contento per lui bellissimo risultato che sta maturando in questa partita inizia da un po' male ma poi ripresa molto bene finisce così 4 a 0 anche questa terza partita di questo ottavo episodio bene così ragazzi bene così possiamo ambire sicuramente la champions ma al primo posto penso io perché la juve comunque sta giocando molto molto bene e vediamo cosa riusciremo a fare anche se siamo ancora a metà stagione io ragazzi con questo vi saluto aspettate un po' ha vinto anche contro il Chievo Verona un solo collega ma anche con tutti i piedi la juve di allegri io in questo ragazzi per ringraziovi se volete lasciate un like iscrivetevi al canale e ad un prossimo video Bella ciao ciao